Ethereum previsione prezzo a fine 2050, ecco dove secondo noi potrà arrivare Ethereum alla fine del 2050. Ciao da CryptoNFT Italia, io sono Luke, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi parleremo di Ethereum, la seconda criptovaluta sull'intero ecosistema del mondo delle criptovalute, al numero 2 del ranking mondiale su CoinMarketCap, e nello specifico andremo a parlare di quello che potrebbe essere l'ipotetico prezzo di Ethereum alla fine del 2050. Quindi mi raccomando, segui fino alla fine questo video perché sveleremo quello che sarà il prezzo. Prima di iniziare però, cosa molto importante, lo ricordiamo sempre, ti invito come sempre a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche, è importante sia per sostenere la community, che soprattutto se ti va facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di Ethereum, cosa ne pensi del progetto che sta dietro di Ethereum, perché ripetiamo, adesso oggi andremo a vedere, non è solamente una blockchain, ma appunto ci sono dei tantissimi potenziali progetti satelliti che appunto ruotano intorno all'ecosistema di Ethereum. Un'altra cosa molto importante anche questa, non siamo ovviamente dei consulenti finanziari, quindi tutto ciò che viene detto e illustrato all'interno dei nostri video, come sempre ricordiamo è frutto di anni di esperienza, sì, in questo settore, ma non vuole essere assolutamente un consiglio finanziario, quindi mi raccomando, ogni investimento che andrai a fare deve essere fatto in maniera individuale, coscienziosa e soprattutto sulla base di quello che puoi permetterti di perdere, mi raccomando. Allora parliamo un po' di Ethereum. Come possiamo vedere, come dicevamo all'inizio, appunto si trova attualmente alla posizione numero 2, in realtà c'è quasi sempre stata al posto numero 2 del ranking mondiale del mondo delle criptovalute, dopo, subito dopo a Bitcoin per quanto riguarda il volume di capitalizzazione di mercato su CoinMarketCap. Poi diciamo che andando un po' più nello specifico, questo è attualmente il prezzo di Ethereum, che appunto è quotata a 1742 dollari, che comunque è un prezzo che negli ultimi anni è sempre stato increscendo, infatti se andiamo ad analizzare il prezzo a un mese è troppo ravvicinato, ma se andiamo a vedere già a un anno, tenendo in considerazione che come sappiamo l'anno 2022 non è stato un anno particolarmente felice per quanto riguarda tutto l'ecosistema delle criptovalute e comunque in ogni caso appunto come per Bitcoin c'è sempre stato un aumento costante nell'ultimo anno. Se andiamo a vedere l'all time, insomma anche qua da quando è partita, è partita praticamente a pochi euro di dollaro, adesso appunto ci ritroviamo a 1700 e rotti euro di dollaro. Mentre per quanto riguarda il prezzo più alto raggiunto da Ethereum, come possiamo vedere l'ha raggiunto in questo caso a novembre del 2021, toccando circa quasi 5.000 dollari di dollari, che comunque è un prezzo veramente importante. Negli ultimi anni, diciamo che l'anno scorso il prezzo più basso l'ha toccato invece a giugno del 2022, dove appunto si è assestata a toccare circa i 1.000 dollari e ad oggi appunto si trova al prezzo che abbiamo detto poco fa. La capitalizzazione di mercato l'abbiamo appunto già testata, il circolante, quindi i token attualmente in circolo per quanto riguarda di Ethereum, parliamo di 120 milioni di Ethereum attualmente disponibili, attualmente diciamo in circolo, ok? E quindi insomma la fa posizionare al punto numero due. Diciamo che il momento in cui Ethereum è esplosa e soprattutto quando sono esplosi tantissimi progetti legati appunto alla blockchain di Ethereum, perché ricordiamo che Ethereum non è solo una blockchain e appunto su questo filone andiamo un po' a collegarci per piano piano trasportarci e ad arrivare appunto a quello che potrebbe essere l'ipotetico prezzo di Ethereum nel 2050. Questo perché? Perché come dicevamo prima bisogna partire un po' dal concetto di che cos'è Ethereum. Ethereum è appunto una rete blockchain, lo leggiamo qui insieme, decentralizzata e lanciata nel 2015, quindi è una diciamo delle criptovalute più longeve per quanto riguarda il mondo delle criptovalute, appunto una delle prime, delle native insomma. Poi leggiamo andiamo ancora avanti, Ethereum integra la visione originale di Bitcoin fornendo una blockchain in grado di eseguire autonomi smart contract con la struttura per sviluppatori di applicazioni decentralizzate da costruire su Ethereum. Ok, quindi non solo supporta smart contract, quindi dei contratti appunto fatti ad hoc, ma soprattutto nasce con l'idea poi di andarci a strutturare delle vere e proprie DAP, quindi delle applicazioni decentralizzate. L'innovativa architettura della blockchain consente la creazione di molti progetti indipendenti di sviluppo cripto che hanno dato luogo alla nascita della DeFi, finanza decentralizzata, NFT, GameFi e del Metaverse. Quindi non c'è solamente un aspetto legato appunto alle DAP, ma c'è un discorso legato anche agli NFT, appunto il Metaverse e così via. Infatti per quanto riguarda la finanza decentralizzata, leggiamo anche qui, negli ultimi anni lo spazio della finanza decentralizzata è cresciuto a dismisura, la DeFi stravolge il mondo finanziario tradizionale grazie alla sua capacità di offrire una gamma di prodotti finanziari. Ok, quindi questo è quello che un po' fa la DeFi. Poi ovviamente dietro a tutto il mondo dell'arte e agli oggetti da collezione abbiamo sempre parlato di NFT, che sono un'altra aggiunta alla blockchain di Ethereum, che appunto molti progetti NFT nascono, come dicevamo prima, attorno appunto alla blockchain di Ethereum. Non solo, perché parlando del mondo gaming, il settore gaming è un'area dello spazio cripto che sta realizzando sempre di più il potenziale della tecnologia blockchain, specialmente su Ethereum. Ok, gli NFT hanno permesso di supportare molte aree del processo di scambio all'interno della GameFi. Quindi anche qui, diciamo, nel settore del gaming è molto 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 sviluppato per quanto riguarda la blockchain Ethereum. La tecnologia, appunto, ecco un'altra cosa importante, sono nate anche delle blockchain di secondo livello, molti progetti hanno lanciato delle blockchain di secondo livello, che comunque in ogni caso si basano sempre e comunque su progetto sulla blockchain di Ethereum. Ovviamente le blockchain di secondo livello nascono appunto per aumentare il processo, per, diciamo, sviluppare in maniera molto più veloce e soprattutto tante volte meno più onerosa, meno onerosa di quanto appunto si possa immaginare per quanto riguarda invece i progetti fatti su blockchain Ethereum. Quindi servono anche un po' per quello. Poi, per esempio, Uniswap è uno dei principali exchange decentralizzati per Antonomasia, appunto creati su protocollo ERC20, quindi su blockchain Ethereum. E poi ci sono appunto altri progetti, come possiamo leggere, qui ce ne sono Sandbox, che per esempio è uno dei più importanti, più famosi progetti, diciamo, nell'ultimo periodo. Sand è il token nativo, è il mezzo di scambio dell'ecosistema di The Sandbox. Gli utenti possono utilizzare Sand per acquistare terreni e costruire asset in game o listarli sul mercato di The Sandbox per monetizzare le loro esperienze di gioco. I possessori di Sand possono anche partecipare alle decisioni di governance e mettere in stake i token Sand per ottenere ricompense di gioco. Quindi, diciamo, questo è un altro progetto nato per quanto riguarda la blockchain di Ethereum, ma, come possiamo leggere, qui ce ne sono veramente, veramente tante. Ora, arriviamo un po' al dunque del discorso. Quindi, quale potrebbe essere l'ipotetico prezzo di Ethereum a fine del 2050? Lo andiamo a vedere insieme. Allora, qui abbiamo fatto una stima, perché già se dovessimo paragonare la capitalizzazione di mercato, quindi se Ethereum dovesse raggiungere già la capitalizzazione di mercato di Bitcoin, già parleremmo di 4.000 dollari di Ethereum. Già qui ci siamo, ok? Ora, il discorso è che nel 2024, come abbiamo citato in altri video, ci sarà anche l'Halving di Bitcoin, che andrà a trascinare non solo Bitcoin, ma anche tutto il mercato delle criptovalute dietro di sé. Ora, non ci addentriamo su che cos'è l'Halving, l'abbiamo già detto e stradetto in un altro video, ma sicuramente da lì ci sarà un grossissimo spartiacco e da qui al 2050, se le cose dovessero andare come si spera, in teoria Ethereum potrebbe potenzialmente arrivare anche a 15.000 dollari. Quindi questa è la nostra previsione di prezzo. Fateci sapere voi, qui sotto nei commenti, cosa ne pensate. Per questo video è tutto. Ciao e a presto da Luke.